Oh, ma che stai impallato? Vai, 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 la capizza! Corri! Infrangela le... Do cazzo vai? Contromano! Contromano, contromano! Ciao a tutti ragazzi, che dire? Sì, insomma, avete visto un po' quello che è già il senso di questo video. Ci tengo però a precisare, come magari molti di voi staranno, insomma, sospettando e tramando nei commenti, non so se neanche se si può dire una cosa del genere, ma comunque, insomma, è un video che molti mi hanno richiesto, quindi l'ho portato più che altro per questo e perché è un tipo di vlog diverso e più simpatico che appunto ho voluto fare anche con Carlotta, con la quale tra l'altro poi ho registrato anche un altro video successivamente che vedrete in futuro, ma nel dubbio vi lascio il suo canale in descrizione e soprattutto vi lascio al video. Buona visione! È iniziata! È iniziato! Uh, però io povera che bocca, ne faccio una curva. Ma aspetta, una domanda importante. Su che canale va sto video? Sul tuo. Ah, ok. Bella ragazzi, ben tornati qui sul mio canale, incredibile, con questo vlog in macchinetta, perché, ok, sì, copio dread, c'ho anche la camicia, quindi copio dread ufficialmente. Copio dread, un casino. Io vorrei provare a fare una magia. Accendi la macchinetta. Non resiste, no. No, non resisteva mai. Conviene che la tengo io. Ma quanto ci sentiamo? Ah, non ce la posso dire quanto ci sento. Aspetta. Per il momento in cui sei troppo abitato alle lab e non ti ricordi più come c'è. Esatto. Quindi, signori, oggi siamo qui con questo vlog nel quale fondamentalmente non faremo nulla, perché... Aspettate un attimo. Facciamo vedere via divertire. Prego. Allora, mi viene dei messaggi poco belli. Io ho l'abbonamento del Plus, che non vi farò mai vedere, perché sennò poi me lo vincurate. Non posso, no? E con questa cosa vi annuncio anche che partirà una nuova... Puoi partire adesso? No, no. Cioè, il video consiste nel parlare di ragazzate. Quindi vi annuncio anche che tornerà una serie sul mio canale, che è... Il vlog in macchina. No! La carriera. No! Ah, lo so, io lo so, io lo so. Sfidalo, youtuber! Sfideremo un hawkster. No, non è vero. Non è vero, perché non ho la play più che altro. Esatto. Comunque, sfideremo qualcuno, perché fondamentalmente questo è il senso della serie. Io non so come sia più bello tenere questa cosa, sinceramente. Più che altro, la cosa importante è che io non so la strada. Ora dove devo andare? Allora, adesso devi andare a destra. Cioè, devi fare la strada al contrario, fondamentalmente rispetto a prima. Adesso vi faremo vedere che sta per piovere. Ciao. E quindi, allora, signori, questo per dirvi che se volete potete anche chiudere il video, tanto non ha un senso. Tanto la mia visualizzazione l'ho già presa, i miei soldi li ho già ricevuti. Ma nei grabbe! Incredibile. Quindi, allora, aspettate. Così ci sta, però, in realtà. Quindi, allora, che giorno è oggi? Questo video voi lo vedrete di sabato. Sì, ho deciso che ve lo metto domani, ho deciso adesso. Allora, farai ad editarlo? Ad editarlo, soprattutto. Questo sarà molto editato bene, male, forse... Ma la vera domanda è, sarà editato? Ecco, quindi no. E vabbè! Eccolo, carcazzo! E' non lo mettere nel video, grazie. E' non lo mettere nel video, grazie. Raga, comunque abbiamo appena preso l'abbonamento del Blas e mi ricollego a quanto sia stronzo colui... Il commesso. Esatto. Perché inizia a dire, eh, YouTube non è un lavoro, non lo concepisco, ci sono i ragazzini a 15 anni che si caricano i sacchi. Guardate le camera! No, dai. Sì, infatti... Sono i ragazzi a 16 anni che si caricano i sacchi e voi lo considerate lavoro, di tutte cose del genere. Grazie alla voce. Intanto siamo entrati là, intanto siamo entrati là e il suo lavoro, in poche parole, non voglio dire niente come CD GameStop, però il suo lavoro consiste nel stare sedute ed ascoltare i clienti. Siamo entrati, tre volte ciao, neanche una risposta. No, considerate che, allora, noi siamo entrati e, come diceva lei, io, che l'avevo già visto quando sono andato a prendere la Play, diciamo non mi stava già tanto simpatico, ho fatto, ciao, lui, ciao, non stava a guardare il computer, cioè neanche ci ha guardato in faccia. Ho detto, volevo fare l'abbonamento, vabbè, abbiamo spiegato, abbiamo parlato, a un certo punto me ne esco e faccio no, perché lei è una YouTuber, così, ha 96 iscritti, ovviamente, certo. E anche che 90 iscritti in docazzo va, però vabbè, dai, allora, lei se ne esce, ha detto, lui ce ne ha 5.000, così, e quindi lui ha detto, io non concepisco molto questa attività, con un tono molto spocchioso, e quindi, fondamentalmente, lui, dopo non aver centrato benissimo, se ne esce il tono spocchioso, allora ha detto, no, perché, spocchioso, sì, perché praticamente, che stanno a dire? Che è spocchioso. Esatto, quindi, davvero non mi ricordo il collegamento. C'è traffico, siamo a Roma. C'è traffico, perché siamo a Roma. Oh, le 1, 2, 3. Ragazzi, Fede Marconi canta. Novo canale. Scezionale. Cantare con Federico Marconi. Mi stai zoomando, vero? Mi stai zoomando, vero? Oh, 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 non si vede, manca un po'. Oh, 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 oh. Non posso girare a sinistra che sta male, scusami Quindi allora, stavamo insomma dicendo di... Oh, ma che sei impallato Vai, vai, la cabizza Corri In Francia e la led Do cazzo vai, è contromano È contromano, è contromano No, non è contromano No, non c'è credo È contromano No, adesso no, perché tu stai andando alla stazione Ma non è questa la strada E io ora dove sto andando, scusami Non ne ho idea Non sei sicuro che non è contromano? Penso di sì Sì, è tutto contromano No, che cazzo mi stai dicendo È contromano Gira qua La c***a Non c'è credo Ho fatto una cosa con ti Però dove devo andare allora, aspetta A sinistra Non c'è credo No, regà, i danni, i danni Che cosa buona Ma scusa, era per girare a sinistra Dove giro allora, se non posso girare qua? Qua devo andare a sinistra Corri, vai GD2 Amido? Questo per dirvi Il tuo telefono è ricasca Un'altra volta Ah iPhone 6 ragazzi Sponsorizziamo l'Apple Che ne ha bisogno Sei buono, due secondi Allora Quindi Torniamo a parla di prima Questo per dire che Praticamente Insomma Ha cominciato a farci tutti i paragoni Con Eh ma io a 16 anni Mi spaccavo la schiena Ha detto sì ma infatti Io Sono contro Cioè giusto A secondare un attimo Sono contro Quelli che lo prendono come un lavoro Finché lo fai come divertimento A 16 anni E mi fa Eh allora sì però io Mi hai detto la cosa A 16 anni mi spaccavo la schiena Sì vabbè erano anche altri tempi Ti capisco Ma erano altri tempi E lui Eh ma anche adesso a 15 anni Si spaccano la schiena Lei C'ha una faccia che ne era nera Di più Io Io ero sopra il picchiaro Mi sono stata zitta Io non ero calmissima Allora Ho concluso la conversazione Dicendo Yabbè c'è anche chi A 15 anni adesso Passa le giornate per strada A farsi le canne Eh ci sarebbe da menare i genitori In quel caso Esatto Quindi da menare i te In qualsiasi caso Allora Questo comunque un video Interessante No? Sì Perché domani Uscirà la carriera Quindi vi dico anche un po' Di cazzacce Minari Io so ancora Pensando ad adarsi In contramano Che mi sono fatta Vabbè non ho parole Non ho parole Veramente non ho parole Sono parolacce Di tante Ti potrò No dai E' un bel Vedete le cerchi Quindi Diciamo Allora domani torna la carriera Con l'episodio numero 34 Sì Domani l'episodio 34 Poi in settimana Uscirà un altro episodio di carriera Il 35 Perché Questo è il secondo video di fila Che vi porto Che non è FIFA Quindi chiaro Dobbiamo recuperare Poi Quanti ne abbiamo oggi? Io direi che il primo aprile Così a caso Quindi pesce d'aprile Vi faccio tornare Lo sfidato youtuber Con uno youtuber De 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 Con uno C'è una Entra dentro la patinetta Sì Insomma Anzi Facciamo così Questo mese Comunque ve lo faccio uscire Lo facciamo così Noxer Sì E il mese prossimo pure Ma lo sfido dello youtuber Deve Deve essere fatto solo Su due console diverse O anche No perché Se si può fare Sulla stessa console Tipo Ecco Potrei farlo anche Diciamo che Il criterio di questa serie E Ultimi team Quindi capito Questa varia Ah comunque Questo video Non ha senso E vabbè Possiamo tagliare Dei versi Tipo Questo verso Lo taglio Ma dovete capire Ragazzi Che Dillo Magari non crei I video suoi Però Per i video Tipo Erna Voi Quei 4 minuti Che vedete di video Sì Stanno più o meno 8 ore di lavoro Ma io vi dico Che Allora Io diciamo che Nell'editing Dipende dalla serie Che porto Dipende dal video Che porto Cioè io non li edito Tutti in maniera uguale Ovviamente Tipo Ci sono i video di carriera Che sono editati Molto anche loro Anche se alla fine Piove Anche se alla fine piove Nei video di carriera Piove ragazzi Sì Hai nevicato anche Comunque Non divaghiamo Praticamente Nei video di carriera Alla fine Anche se voi vedete un montaggio Non tutto con la musica Nel senso che Ve lascio molto Il gameplay fisso Soprattutto durante le partite Mentre lei balla dietro E comunque è molto editato Anche quello Ci metto tanto Quindi figuratevi Quando vi porto Un episodio tipo Delle FAQ Che è più editato Comunque un episodio Sfidato youtuber Che devo mettere Due facecam E tutto quanto Quindi sì Ci vale veramente tanto tempo E poi ragazzi Lui si deve rompere Per fare Per sincronizzare l'audio Con la web E con il gioco Che è un casino Magari non ci pensate Però è veramente un casino Esatto Cioè io devo fare Praticamente Il mio gameplay Parte con Io avvio Allora devo avere tutto Lì pronto Quindi la telecamera Il microfono vicino Che è collegato al computer O il programma Che è audacity Per registrare l'audio E poi il programma delegato Per registrare il gameplay Ragazzi Quanti like Allora A 200 like Federico Marconi Vi fa vedere Come fai video Eh Te l'ho già fatto Speciale mi è iscritti Però è cambiato Per niente tutto Quindi ve lo farò rivedere Lei è totalmente Incredibile Guarda che bella macchina Wow È la Twizy La Twizy ragazzi È la macchina Che si vuole comprare Direct 99 Parliamo di quanto È fregno Questo ragazzi Allora L'ha fatto passare E te lo dico Che te faccio passare E te lo dico Che te faccio passare Altacci Tu quanto deve Io non ci credo Allora Lui che Ha ringraziato Ha fatto una faccia Molto felice Lei che si è bagnata Sicuro No Lui che stava fermato Aspettare Io guarda Prego Passa Io non ho problemi E lui ha fatto tipo Oh mio Dio Mi ha fatto passare Ma era Noxer Quella Però non mi fate fermarla Perché so vaga E quindi voglio farla Sentire povera Io sono completamente Fuori dall'inquadratura Perché va inquadrata Io sono più importante Cosa vuoi dire YouTube Noxer Iscrivetevi al mio canale Lo spam Proprio lo spam Con quale coraggio Ha detto una cosa del genere Ok Ora devo dire Ma quello sta in mutande No Pattoncini corti Molto corti Non è che non è normale Il piatto piove Questa è una cosa inquietante Il che altro stava a marzo Il che altro stava a marzo Adesso vi farò vedere La macchinetta E a me li siedo pure La macchinetta interna Di Noxer Queste sono le chiavi Chiavi d'ultima generazione Famo di penultima Famo di pepepepepepepepe Questa è la Ma questa è la maccina JTS che significa Jesus E quindi torniamo a normale Allora adesso passeremo Vicino a casa mia vecchia E io vi farò vedere Casa mia vecchia Ma ne dobbiamo andare a casa tua? No No, vorrei vedere solamente la curva per svoltare e poi andare successivamente eventualmente a casa di Claudio E quindi la curva per svoltare è esattamente questa signori Copri tutte le vie ovviamente Copriamo viale Giappone 63 che non mi muove a casa No, ho dato la via, ok, questa parte vi ho tagliato malissimo Perché? Perché non posso dalla via di casa mia Venite a trovarci, non taglierò quella parte, la promessa Guarda che culo c'è quello Non si è visto mai, parlo un zinco pesantissimo Vuoi dire qualcosa a YouTube? Però urlalo che se no non ti sentono che si è in macchinetta Sì, è urlando Eh? È urlando No, però vuoi dire a YouTube cosa stai facendo? No, vabbè dai Spinguiteli la noccia, corta mattona Ok, benissimo Da un Alessio che sta cagando in maniera selvatica vi salutiamo No, in realtà vi saluta solamente lui No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Signori, voi vi chiederete quando è iniziata questa telefonata? E noi gli diremo Prima Mentre non stavamo registrando perché la vita è la memoria Però poi è stata fantastica Che tipo, loro hanno visto La chiamata E poi io senza un chiave Quando prima eravamo gli occhiali No, in realtà è sempre lo stesso video E come l'ha avuto questa parte? No, no, no Guarda questo se non deve superare la tua macchina In realtà quella dietro è una BMW tipo X8 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 Dillo tu, dillo tu, dillo tu che ci sarà Ci saranno Squad one Compara No, 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 no Non loro Oltre a loro Che ci sarà come vi ho detto al tuo giorno a scuola Testuali parole No, no, testuali parole Cosa stai facendo questo? Eh, i carabinieri che... Eh, no Ci guardavano Cioè i carabinieri che fanno le cose che mi superano in questo modo bruttissimo Non ho mai visto E mi stavano facendo la musica i carabinieri Sì, perché te stai a guardare quello? Sì, perché ti me guardo Guarda malissimo Stavo facendo tutto e io prego la qui di tranquillo Vabbè, che ci sarà? Testuali parole a scuola l'altro giorno? Eh, bella fifa No, testuali parole Guarda, perché non lo dici bene? Chi è? Ah, no Che ci sarà, Noxer? Tanti bei ragazzi Tipo, tipo, tipo Tipo quel figo che avevo fatto passare prima No, quel figo di... Quel figo di bella fifa L'ha detto, signori Quindi abbiamo un luogo amore esplosivo che sta nascendo No, abbiamo quello di scuola dietro di noi che sta scelerando Un amore kamikaze, lo sai dire? Perché? Non lo so, qualcuno vorrà esplodere, ti anche resisti Dai, super amici Quindi, super, la C Signori, quindi, spero che questo video vi sia piaciuto Spero di avervi con la compagnia per questi minuti Che non so quanti siano stati Iscrivetevi al Noncer Il canale troppo in descrizione E... E uiwa E uiwa E uiwa Bella, rega Ciao! 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 Grazie a tutti